ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video non manca moltissimo ad halloween e nella speranza di poter ritornare presto a viaggiare vi suggerisco alcune mete che sono le migliori al mondo per appunto festeggiarlo e per passare appunto la serata di halloween in maniera memorabile cominciamo dalle mete in europa con derry in irlanda nonostante sia una festa un pochino americanizzata halloween in realtà ha origini nella tradizione celtica quindi non c'è niente di meglio che passarlo appunto in irlanda del nord dove appunto questa tradizione è molto forte questo vale per la città di derry dove ci sono eventi per tutto il mese di ottobre ma appunto il culmine è durante appunto la notte di halloween il 31 di ottobre quando si tiene il leggendario il carnevale di strada con ovviamente costumi spettacolari giochi di luci e artisti di strada provenienti da tutto il mondo seconda meta il castello di bran in transilvania quindi in romania non c'è luogo più adatto per passare la serata di halloween del castello di bran appunto in transilvania che è il castello che ha ispirato il dracula di bram stalker quindi direi che è forse la meta più azzeccata terza meta praga in repubblica cieca ottima meta per tutta la famiglia ci sono eventi adatti a tutti come la zombie night run che è appunto una corsa per beneficenza oppure per chi ama i locali notturni c'è un'ampia scelta di feste tra cui scegliere quarta meta amsterdam è una delle capitali europee più famose per le feste e sicuramente non vi deluderà nella notte di halloween ci spostiamo quindi negli stati uniti dove la festa di halloween è assolutamente portata all'estremo la prima meta è la città di savanna in georgia la cui ambientazione è perfetta per passare un halloween davvero spettrale uno dei principali eventi è il mardi gras in the mansion che si tiene appunto in una dimora di una ricca famiglia della zona altra meta è new airlines in louisiana in cui potete godervi di una spettacolare parata oppure potete divertirvi guardando i bizzarri costumi che trovate nei bar di frenchman street settima meta new york una città talmente grande da avere un'ampissima scelta di eventi a tema halloween l'evento migliore però è la parata che si svolge a greenwich village e la parte migliore di questa è il fatto che potete partecipare anche voi perché vi basterà indossare semplicemente il vostro costume preferito ottava meta k west in florida non è famosa soltanto per le feste estive ma potete trovare anche molti eventi dedicati ad halloween ovviamente con spettacoli burlesque e balli in costume la meta un pochino più particolare però è la haina nell'isola di maui alle hawaii non c'è niente di inquietante tra spiagge bianche e palme ma ci sono molti eventi dedicati come una parata annuale con corsi di costumi e molti bar del centro che offrono drink speciali appunto a tema halloween bene ragazzi spero che il video l'abbiate trovato interessante di avervi dato qualche spunto per gli halloween futuri nel caso vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale magari attivando anche la campanella in modo da rimanere aggiornati sui video che caricherò in futuro se avete qualche altro consiglio su mete a tema halloween lasciatele in un commento qui sotto sempre qui sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure in particolare se vedete questo video il giorno in cui esce sto tornando da un piccolo viaggetto che ho fatto per scoprire dove dovete seguirmi su instagram però non mi resta che salutarvi e dirvi have a nice life